è arrivato il momento dei saluti ufficiali li faccio anche se non siamo in streaming perché io non è che ringrazio tutti perché mi guardano dallo streaming ringrazio perché sono veramente grata ogni anno a tutti voi e a tutte voi che venite che partecipate a tutti quelli che in ogni modo ci permettono di fare questa cosa io devo dire ogni anno diciamo è l'edizione più bella di sempre e questa sicuramente è una delle edizioni più strane di sempre io ho trovato un'edizione molto bella sarà che mi mancavate tutti tanto e mi è piaciuto così tanto vederci a giugno quando abbiamo fatto il freelance camp online ma mi mancate proprio fisicamente lo confesso e quindi vederci qui dal vivo e poter passare dei giorni assieme in questa atmosfera rilassata con lo spazio e il tempo giusto per raccontarcela era proprio qualcosa di cui io avevo bisogno e so benissimo che ne avevate bisogno anche voi quindi siamo ci vedremo sicuramente ce li vedremo qui ce li vedremo nelle edizioni locali che organizzeremo di nuovo un grazie veramente di cuore agli sponsor che ci aiutano a realizzare tutto questo a site ground a copa alleanza 3.0 tra l'altro stamattina con copa abbiamo fatto una diretta a cui ho partecipato io in diretta con biliana ma poi in coda c'erano anche i consigli che avete dato sullo smart working per cui se l'andate a recuperare guardatela è veramente stata molto carina ringrazio a un levolante fior di loto ringrazio wind riser bravissimi bravi davvero ringrazio cuciria ringrazio calamun assolutamente ringrazio fabiana e carlotta per il contributo che danno agli agli zoom club ringrazio arbos che ci dà i meravigliosi quaderni ringrazio le persone che stanno documentando tutto questo oltre a filippo e debora i nostri fotografi emanuele rabissi sarah soldano jessica zanardi e daniele fanton che c'erano ieri ringrazio emanuela recchia che sta veramente facendo delle opere d'arte grazie davvero ringrazio tutto lo staff di digital update che sono quelli che lavorano veramente lara simone e silvia ringrazio il mio socio gianluca e miriam bertoli che condividono con me questa idea che abbiamo avuto e che che mi consentono di distrarre tempo ed energie al digital update per fare questa cosa questo il motivo per cui dovete ringraziare gianluca vi aspetto vi aspettiamo tutti vi aspettiamo nel club quindi chi non ha la testa del club interessato a farla mi contatta direttamente e gli spiego come e vi aspettiamo al prossimo zoom club vi aspettiamo alla prossima edizione del freelance camp grazie grazie grazie